Davanti uno degli ingressi principali del centro commerciale Centro Sicilia si è tenuto stamattina un sit-in di protesta organizzato dalla Federazione UGL Terziario in sostegno dei dipendenti dei supermercati spaccio alimentare che non percepiscono gli stipendi da diversi mesi. In questo modo non si va da nessuna parte. I lavoratori non percepiscono la mensilità di febbraio, marzo, ora aprile è finito praticamente. Nello stesso tempo sono in cassa integrazione, una cassa integrazione che comunque è a rotazione e che non vede coinvolti tutti quanti. C'è poca chiarezza, la struttura, il punto vendita dovrebbe essere acquisita da un altro compratore, il quale in questo momento è in trattativa ma sono delle trattative che ancora non riusciamo a comprendere. L'unica verità è che questi lavoratori oggi lavorano senza percepire lo stipendio ed è allucinante, è pazzesco. Tra l'altro ci sono alcune organizzazioni sindacali, mi dispiace dirlo, che hanno indetto uno sciopero permanente però puntualmente i loro lavoratori vanno a lavorare e questo è qualcosa che è inconcepibile perché comunque devono difendere i loro iscritti. Alla distribuzione Cambria, società proprietaria dei punti vendita, i lavoratori catanesi richiedono l'erogazione degli stipendi arretrate e risposte su quello che sarà il futuro di 180 lavoratori. Per febbraio e marzo non sono arrivati gli stipendi, sono gli ultimi due, poi ci sono quelli che fanno parte del concordato che sono settembre, dieci giorni di ottobre e la tredicesima, alcune anche agosto, per cui sono cinque mesi. Aprile sta finendo e già siamo al sesto mese. Voglio dire, chiediamo un po' di trasparenza dalla parte dell'azienda anche per sapere che fine vanno a fare anche gli altri colleghi che si ritrovano nei punti vendita degli iper simboli. Dentro gli iper simboli c'è spaccio alimentare con un accordo fatto con la SMA molti anni fa e saranno 7-8 unità che rischiano veramente il licenziamento. Non c'è nessun accordo, nessuno ci dice alla chiusura andate a finire in questo punto vendita. C'è silenzio assoluto. Forse andate in questo supermercato, ma poi di fatto non c'è nulla. Per cui, non lo so. Ora siamo qua, si va ad oltranza perché non c'è altro modo da fare. L'Enel non è che gliene frega qualcosa se siamo in difficoltà. Se non paghiamo le bollette, tagliano la luce, l'acqua, il padrone di casa si può anche seccare perché giustamente cassa integrazione non se ne parla. Ma che dobbiamo fare? Grazie.